Progettare uno showroom per l'Istone Giordano vuol dire semplicemente parlare di legno e di pavimenti. Quindi uno showroom non è necessariamente solo un luogo dove disporre in bella maniera i prodotti per poterli scegliere, ma è soprattutto un luogo dove discutere, dove parlare, dove mettere insieme conoscenze, esperienze, idee su legno e pavimenti. Quindi questo è un luogo di incontro, è un luogo dove possono succedere nel tempo tante cose e dove l'idea di pavimenti di legno può crescere e può diventare un'idea per l'immaginazione del futuro. Siamo sempre più consapevoli di quanto limitato è questo pianeta e quanto dovremmo noi occuparci di far sopravvivere il pianeta, perlomeno tanto quanto il pianeta si è preoccupato di far sopravvivere noi come razza umana. Per cui inevitabilmente da oggi in poi, da un po' di tempo a questa parte in poi, l'uomo si dovrà occupare proprio di usare tutto il potenziale naturale nella maniera migliore, nella maniera più distribuita, più equalitaria, più bilanciata possibile. Grazie. 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 Grazie.